...di chiacchierare, magari in partato sono in cima, magari hanno il sole e non dà troppo a tutto quanto fa... Tutto complimenti per questo traguardo, complimenti per il fatto che sei una donna, quindi vanno maggiori complimenti... Cioè, dato che sono una donna, io sono contenta quando vedo le donne sportive, sì, perché la fatica è molto di più. Come è stata per te la gara? Io penso che non sono l'immigrata, io non sono l'immigrata, io non sono l'immigrata, l'ho fatta per amore della mia squadra... E' bella, commenta la donna, signora... I tuoi compagni sono molto fortunati di averti per il fatto comunque che sei così prodiga a dedicarti ad una gara che non è proprio il tuo... Però nonostante... Però insomma, si vede che ti apprezzano, è molto bello. Vedo che sei di fretta a voler andare a cambiarti, per cui non ti trattengo, grazie ancora. Siamo tornati con... Con... L'ambulanza che vi segue, ma l'ambulanza non è per il lavoro, è per tutti, ma non è per il lavoro. 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 No. No. Non è per il lavoro. No e che appena sviluppate le nostre casigli che proveremo rapidamente... Grazie a tutti.